direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di si vince tutto super analotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione di si vince tutto il concorso speciale di super analotto come sempre si vince tutto super analotto un suo monte premi distinto da quello di super analotto che viene interamente distribuito in un'unica serata quella di estrazione fra tutti i vincitori per partecipare si scelgono 12 numeri e se ne devono indovinare 6 ma si vince indovinando anche solo due numeri della combinazione estratta ad oggi si vince tutto ha già distribuito oltre 105 milioni 500 mila euro e solo nell'ultimo concorso sono stati assegnati oltre 140 mila euro scopriamo insieme quale cifra raggiunto il monte premi oggi mercoledì 24 aprile 147 mila 954 euro le operazioni di estrazione sono già iniziate le 90 sfere numerate per la sestina vincente sono state caricate e con l'autorizzazione della commissione di controllo di ammoral via all'estrazione di si vince tutto super analotto le sfere sono scese nell'una elettronica inizia il loro mescolamento automatico andiamo subito a scoprire il primo numero estratto è il numero 84 secondo numero sta arrivando da qui in poi si comincia a vincere secondo numero estratto è il numero 71 e ora siamo al terzo numero eccolo terzo numero estratto è il numero 59 via con il quarto il quarto numero estratto è il numero 89 è giunto il momento del quinto numero al penultimo il quinto numero estratto è il numero 55 con l'ultimo numero la sestina vincente di questa estrazione speciale sarà completa il sesto numero estratto è il numero 34 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione 84 71 59 89 55 34 controllate bene la vostra ricevuta di gioco perché si vince tutto super analotto questa sera distribuisce l'intero montepremi che vale ben 147.954 euro ricontrolliamo tutti i numeri strati di si vince tutto super analotto con la sestina vincente in ordine crescente 34 55 59 71 84 89 l'estrazione di si vince tutto super analotto di oggi mercoledì 24 aprile è terminata fra pochi minuti scopriremo insieme come verrà distribuito l'intero montepremi a fra poco con si vince tutto super analotto ben ritrovati poco fa abbiamo seguito l'estrazione dei numeri vincenti di si vince tutto super analotto di oggi mercoledì 24 aprile che vi ricordo ha messo in palio oltre 140 mila euro il computer ci comunica che sono state assegnate 7.663 vincite per un valore di 147.891 euro il 6 non è stato centrato ma sono stati premiati migliaia di vincitori nessun 6 i 5 sono 5 e vincono 1.006 euro ciascuno i 4 sono 102 e vincono 118 euro ciascuno i 3 sono 1.103 e vincono 48 euro ciascuno i 2 sono 6.453 e vincono 11 euro ciascuno vi ringrazio per essere stati con noi si vince tutto super analotto vi do appuntamento a lunedì 6 maggio arrivederci per te Grazie a tutti.